Ciao, io sono Johnny95 e oggi siamo su Cooking Craze Allora, nel precedente episodio eravamo sulla barca Abbiamo fatto qualche livello della barca per progredire con la storia E ora siamo arrivati in questo livello, livello 94 Premetto subito che non sentirete l'audio del gioco O almeno sicuramente non l'audio musicale Perché non so come attivarlo Perché datemi voi consigli perché non riesco Perché ho provato all'attivarlo e mi dice che vuole chiedere l'autorizzazione del proprietario del gioco Io non so come fare a chiedere l'autorizzazione Perché anche se la chiedo, poi come faccio a fare in modo che Quelli dell'app capiscono che io possa registrare l'audio di gioco Quindi questo è un dubbio che mi prime in modo incredibile Perché non saprei come registrare l'audio Ho bisogno di un vostro consiglio Quindi se voi avete idee, avete consigli Datemi pure che io ho bisogno di capire come registrare l'audio di gioco Detto questo, andiamo avanti senza l'audio musicale Almeno sentite la mia voce, questo è l'importante Almeno credo Adesso prepariamo tutte le bistecche Proviamo il filetto di salmone Allora, bistecca e patatine Bistecca e pomodoro Prepariamo altre due bistecche Rosmarino e torta Caffè Salmone, bistecca e pomodoro Rosmarino Prepariamo altre cose Le torte le riprepariamo E' un livello a tempo E' un livello a tempo Quindi è un casino E' un casino a farlo Allora Salmone Pomodoro e patatine Lei vuole di più Allora Prepariamo il salmone Prepariamo le bistecche Tanto l'ho già perso Ho già perso il livello Eh, lo sapevo Ero troppo indietro Non ci avrei fatto Eeeh E vabbè Eeeh Si riprova Non so neanche se supererò il livello Ma almeno vi faccio vedere che sono arrivato a questo punto Sapendo i miei progressi Dovrei migliorare la zona del pesce Perché è un po' lenta Bistecche Due torte Bistecca Altre bistecca 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 Ok Allora 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 Ah, mi servono quelle Eh, non ho già niente pronto Non è possibile Sono sempre in ritardo perché non ho mai niente pronto E poi le cose vanno anche lente Quindi è un casino È un casino fare Questo livello Già il solo che mi dà un fastidio Che non ci sia l'audio di gioco O almeno Forse sentite i suoni Delle cose che faccio Però Non c'è l'audio di gioco E purtroppo non riesco a registrarlo Mi dice che non posso Eeeh Ma non è per questo gioco qua È per in generale Quindi Dovete dare voi consigli Ok Ok Allora 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 Eh Eh non l'ho fatto in tempo Se avessi più tempo Ce la farei Allora Voi sapete che sono al livello 94 Però per portare contenuti Sul canale cercherò di portare I livelli che riesco a fare almeno in video Poi dopo proverò a fare Quelli difficili off camera Allora vediamo Vediamo cosa possiamo fare Potremmo fare il livello 86 Guarda puoi migliorare il ristorante Lo so che posso migliorare Ma voglio tenermi le cose Per i miglioramenti importanti Per il momento non mi serve Dove mi ha portato? Ma perché mi ha portato all'inizio? Se io sono alla fine E tu mi porti all'inizio? Serio? Già non riesco a registrare l'audio di gioco Poi manca solo che mi impedisci di andare avanti E vabbè abbiamo due vite Due vite le usiamo Ne usiamo Le usiamo sempre in questo livello Vi faccio solo questo livello Perderò tutte le vite Ma almeno vi faccio vedere I livelli Proviamo un'altra volta questo E poi vediamo Allora Due zuppe Questo Zuppa Caffè Quella col pomodoro Un'altra bistecca Prepariamo Altre zuppe Torta Ok Prima di venire a secco con le cose A 30 sono arrivato Ma dai Ma una cosa Potevate chiederlo in più Un salmone C'avevo i filetti qua E non mi chiedi il salmone E questo Questo livello tosto Però vorrei far Vorrei portare almeno un livello Sul canale Cioè nel senso portarvi Qualcosa Che Porta avanti Solo che Parlare Mentre Mentre gioco Qua è un casino Cioè Sinceramente Datemi anche Datemi anche questa opinione qua Vi va bene questa serie Oppure preferite Che vi porto altro Perché io Io mi impegno Per portarvi questa serie Poi dopo sta a voi giudicare Se vi piace o meno 29 Questo ancora è il tempo I livelli a tempo Sono i più odiosi 15 like E Poi Quelli più difficili Sono anche i like Però Quelli a tempo Sono i peggiori Allora Perché i like Vanno anche questi Un po' a tempo Ce l'hanno Un po' di tempo Allora Zuppe Torte Ho usato Una tortina Per Abbuonarmi I clienti Se no Non andiamo avanti Caffè E torta Ok Fatto Fatto il livello Almeno un livello Ve l'ho fatto Poi Poi non lo so Io cerco di portare I più contenuti possibili Ma sta a voi giudicare Se vi piacciono Se qualcosa da migliorare Tipo l'audio di gioco Non si sente Se mi date consigli È meglio Ok Almeno un livello L'ho fatto Adesso abbiamo Una vita E una vita La usiamo sul livello 94 Per vedere Se andiamo avanti 31 piatti E c'è il tempo Il tempo È un casino Un casino Prepariamo i filetti Prepariamo tutto Allora Questo Due torte Altri due Bistecche Bistecca Torta Torte Torte Dai chiedimi tanta roba Chiedimi tanta roba Se devo fare le missioni Fatto Fatto Incredibile Incredibile No like Adesso Adesso like Perché È una cosa incredibile Ho fatto un servizio Allucinante E Il livello 94 L'abbiamo passato Notifiche Che viaggiano Che si spostano Che Girovagano Che vanno Ma noi abbiamo fatto Questo livello Incredibile A tempo Perché i livelli a tempo Sono i più odiosi Quei più difficili A meno Vi faccio vedere Che vado avanti Il livello 95 18 like E non bisogna Buttare niente Ovviamente Come restate il video Mi raccomando Like È dovuto Perché io Mi sto impegnando Per voi E voi Dovete impegnarvi Per portare Più progressi Allora Più guardate Più video Guardate Meglio è Allora Altre due bistecche Ok Allora Due zuppe Un Un caffè Un filetto Altre zuppa Altre Tre bistecche Zuppa 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 Torta Caffè E Bistecche E Zuppa Allora Poi vuole la zuppa Qui vogliono Qui vogliono Tre zuppe No ho sbagliato Ho sbagliato Fammi abbonare i clienti Perché se no Non andiamo avanti Filetto Due zuppe Caffè Torta Altre zuppa Fatto Mancano due clienti Due clienti Fammi fare i giusti Ok Fatto Fatto Bravissimo Abbiamo fatto anche il terzo livello Di oggi Livello 95 Come canale Giorni 95 Quindi va bene E Niente Cioè I contenuti Ve li ho portati Spero che vi piacciono Se Per favore Mi date consigli Sull'audio Di registrare Che non so come fare Grazie Qua abbiamo fatto anche un obiettivo Oggi la vola Perfetto Perfetto Va bene Quindi Se il video vi è piaciuto Nonostante il problema di audio Perché non si sente l'audio di gioco Fatemelo sapere Datemi un commento L'opinione Io cercherò di Regolarmi E portarvi Contenuti Adeguati Quindi Sperando che questo video vi sia piaciuto Invececi un bel like Un commento Per darmi la vostra opinione Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Iscrivetevi E condividetelo Per dare like a crescere E noi ci vediamo Nel prossimo video A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti